Momento di pazienza Come avevo detto ieri pomeriggio, questa musca rimarrà fino alla fine di luglio come sigla di testa della nostra attuale trasmissione. Amici e amiche, benvenuti con piacere alla nuova puntata della mia, per ora, nuova trasmissione intitolata Possa via tre pisacce. Tanto per rinfrescarvi la memoria Gioia da casa La mia nuova trasmissione è intitolata così per il fatto che non ho più intenzione di andare a tre pisacce per stare con quegli animali. Ma gli animali, che dico io, sono le persone che hanno l'artefice della rozaggine, l'artefice della tramarraggine, l'artefice della cafonaggine e tutto quanto il resto. Signore e signori, in questa puntata straordinaria, affettuosissimamente, mando tanti tanti cari bacioni a Francesco e buon cappuccino e cornetto a Francesco, che lo prenderà vicino a quella stazione di Pavona che sappiamo benissimo. Qui, consiglio per gli acquisti prima, se a voi vi fa piacere, cari amici e cari amiche, vorrei dedicare un brano e questo brano la vorrei dedicare alla famiglia di Francesco che sta a Pavona. Dalle mie canzoni ho cantato quel brano Maledetti il giorno che sono nato proprio per i comportamenti in passato. per i miei comportamenti in passato. Ora, musica e buon divertimento mattiniero a tutti quanti voi. Qui non metto sponsor per evitare che succedano bordelli. E... Musica adesso Musica adesso C'è cos'è? C'è l'aria qualcosa di freddo che inverno non è? Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Uno mi ha detto che lontano dai pazzi lontano dal mondo e tu sei lontana lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa mille si sono scordati di te. lontano dai pazzi lontano dal cuore e tu sei lontana lontana da me. Ora so che cos'è questo amaro sapore che resta di te quando tu sei lontana e non so dove sei cosa fai dove vai e so perché non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi quando sei non sei con me. Lontano dai pazzi lontano dalla cattiveria e tu sei lontana lontana da me. E per uno che torna e ti porta una rosa mille si sono scordati di te. Lontano dagli occhi lontano dal cuore e tu sei lontana lontana da me. Lontana dai pazzi lontana dal mondo io voglio stare lontano da te. Per uno che torna e ti porta una rosa mille si sono scordati di te. Lontano dai pazzi lontano dal cuore e tu sei lontana lontana da me. Bene, ho dedicato questo brano perché quella razza di corso tedesio è una razza malata nel senso che i ma sono pazzi. Hai capito? Così come sono pazzi i parenti di quel mio amico. Bene, detto questo a Francesco ancora una volta bacioni ed alla prossima e per gli scolari buona scuola!